pesce azzurro drive medica si buongiorno vorrei 18 pasti d'asporto grazie è una mariana signora ma chi c'ha pranzo una squadra de calcio no signor 4 4 4 7 ho sbagliato eh si eh glielo avanza tu io mangierò prima del gialletto pesce azzurro drive fatti guidare dal gusto cari amici di rossini tv oggi la prima puntata di pesce azzurro qui solo qui al pesce azzurro ci siamo con delle grandi fantastiche puntate che iniziano oggi e come ospite come principale co conduttore non so come vogliamo chiamare co presentatore co subretto abbiamo miss rosa della cecca eccola qua buonasera 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 co conduttore co conduttrice tu non hai imparato niente a scuola vabbè ormai è il genere ma chi è tutto spazio buonasera a tutti benvenuti in questa fantastica televisione senti gli applausi senti le risate quanta gente c'è qui oggi milioni di persone milioni di milioni noi siamo qui questo è l'acquario del pesce azzurro lo sapeva sì sì infatti questo è l'acquario dentro l'acquario noi stiamo girando queste fantastiche puntate sono contenta e la gente mentre noi giriamo ci sta vedendo se intorno a noi abbiamo milioni di di avventori di avventori che vorrebbero entrare dentro ma non si può ma possono partecipare certamente e già abbiamo qui una fila di milioni di persone che sono pronte a giocare questo fantastico gioco come funziona il gioco giochi a ping pong c'ha ste palette da mani e sta fermo le mani e allora e allora signora sento presentiamoci lei si chiama rosa della cerca vedo punto filippetti da sol fanuccio di san costante perchè vedo perchè sono vedo ma nel fornetto ci scriverà quello di sol fanuccio di san costante una ridente cittadina a cavallo tra il metauro e il cesano ecco benissimo e le marche alte l allora noi siamo qui signora adesso che si è presentata poi la conosceremo e invece chi è come si chiama io mi chiamo santinelli daniele vivo a fano sono nato a san severino marchese fantastica ridente cittadina di gianno dopo della marisa non vedo che è conosciuto anche nelle terre romagnole conosciuto anche nelle terre bolognesi eccetera eccetera un po di una famiglia contenta per te andiamo avanti questo gioco è un po' complicato allora spieghiamo il gioco signora come funziona dietro delle cose ci sono le gran pentole queste fantastiche pentole queste fantastiche sono una due tre quattro cinque sei pentole e dentro ogni pentola signori e signori c'è una portata una portata del pesce azzurro una portata famosa una portata famosa del pesce azzurro che continueremo che ogni sera cambierà e allora il concorrente che adesso entrerà si siederà su questo trono vediamolo il trono il trono come sedersi comodo guardi un po' bello guardi 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 questa è la telecamera che la riprende sono le sette sono le sette allora signora lei si siederà lì sopra una volta seduto cosa dovrà fare concorre e giocherà con la nostra slot machine comincia a girare una slot machine e uscirà fuori un piatto uno dei piatti un piatto potrebbe uscire uno dei delle famose cinque portate del pesce azzurro potrebbe uscire un piatto di coradella un piatto del salsiccio un piatto degli ossa alla pata capisci ma sono tutti piatti di pesce stavo pensando altre cose oppure potrebbe uscire una lisca o un pesce il famoso pesce del pesce azzurro se esce la lisca ahimè il concorrente perde non vince non vince se esce il pesce azzurro vince subito quando esce il pesce azzurro e quando invece esce una portata inizia a giocare inizia a giocare quindi una pentola verrà messa lì sopra la sceglie il concorrente la sceglie il concorrente inizia il gioco cosa succederà che lui dovrà scegliere la stessa pentola della portata uscita nella slot machine ah cioè nella pentola che sceglie lui deve esserci se no quel piatto uscito noi apriremo tutte le pentole a quel punto una volta aperte tutte le pentole se rimarrà lì il piatto giusto avrà vinto ha fatto filotto vince e allora iniziamo e cosa vince? eh tante belle cose lo scopriremo solamente giocando non lo vedendo dai e allora inti subito il primo concorrente il signor venga 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 eccolo ecco no dove andiamo dove andiamo mi vuole vero mi serve un microfono aspettate un attimo aspetta 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 ecco dove si si è dove fa dove si mette ascolta mi ha capatito il matto allora lei come si chiama? mi chiamano Nino io non mi chiamo ah Nino aspetta lo teniamo così lo teniamo così lo teniamo così lo sto tenendo io ah fatte fa l'interrompio ma cosa devo tenere io? no 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 ma cosa fai? nino io? nino è pericoloso nino perché ha già mangiato qua il pesciazzurro ha messo la canca butta allora Nino perché la consumazione del pesciazzurro com'è? è limitato o è limitata? illimitato quante bicchieri abbiamo avuto lei stasera? è giù uno per volta uno per volta giuntamente Nino di dove è lei? dell'appsella 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 guardate in telecamera dell'appsella all'interno di Pesaro dove è l'appsella? comune di Montelabate provincia di Pesaro nelle Marche ecco che come si chiama il comune però non si chiama... Montelabate no non è Montelabate Montelabate come no? non è San Memo lei ha ragione ha ragione ha ragione ha ragione ha ragione ha cambiato e Vallefoglia e Vallefoglia e Vallerama va bene allora siamo pronti vogliamo rompere il ghiaccio o siamo già a posto? dove andiamo? abbiamo già conosciuto il signore rompere il ghiaccio facciamo una domanda secca? che domanda vuoi fare? posso prendere questa telecamera qua? andiamo qua mi stava comoda questo abbiamo preparato delle fantastiche domande per i nostri concorrenti e iniziamo subito con una domandina per rompere il ghiaccio signora allora signor Nino signor Nino dove è cresciuto? dove è cresciuto? per terra piano piano e lei invece Rosa dove è cresciuta? eh dappertutto le forze dappertutto le forze ho cresciuto troppo io vabbè ok una seconda domanda aveva degli animali da piccolo signor Nino? si cosa c'aveva? il gatto il gatto e lei signora? io c'ho sempre avuto il porcell sempre in campagna il porcell c'è sempre il prendi in primavera il mazzi quando è inverno ma ogni anno ho capito ma l'animale è domestico è domestico è più domestico da quello dormivo l'anno perché il porcell d'inverno tiene caldo e noi in campagna c'avevamo con la stufa in cucina altra sala altra camera d'alerta e il porcell c'è calda nel dormivo col porcell lo capito e va bene abbiamo conosciuto Nino con due domande ci possono bastare e iniziamo il fantastico gioco a sedere prego Nino a sedere Nino nel nostro trono ecco eccolo qua incontriamo Nino la signora Rosa aspetta io mi siedo insieme a Nino allora come funziona la signora Rosa ora si siederà insieme a Nino e tutti e due giocheranno farà un po' da assistente la signora Rosa devo aiutarla a giocare aiuteremo a giocare e allora pronti signor Nino Nino della Picella quando lei dirà via partirà la nostra roulette e vediamo cosa esce ok? è tutto automatico tutto centralizzato viene tutto da Roma praticamente pronto via il via vada Nino via non ho sentito il fantastico rumore che dice boh 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 ha già perso ha perso signora che peccato mi dispiace e Nino ha perso allora se Nino ha perso ma ma c'è un premio di consolazione c'è un premio di consolazione c'è un premio di consolazione Nino avendo giocato con noi vince un fantastico sugo del pesce azzurro guarda come ci sia adesso lo andrò anche a prendere ma c'è anche la possibilità di vincere un secondo premio ah beh quindi venga qua Nino un attimo venga qua tutti in attimo allora per vincere il secondo premio lei deve fare il gioco dei mimi il gioco dei mimi il gioco dei mimi io se le dirò un titolo di una canzone lei lo deve mimare e la signora Rosa lo deve indovinare ok? signor lei signora va da seduta l'istante io dirò una cosa signor Nino mi metto nel trono ciao 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 romagna via romagna via va bene ha vinto ho detto un'altra cosa no va bene uguale va bene ha vinto sentitelo ha vinto aspetti e che cosa ha vinto due sughi uno l'aveva vinto perché c'era la risca e un altro glielo regaliamo signora eccoli i due sughi cos'è grazie Nino ciao Nino accomodati qui perché dopo rientrirai in campo saluti saluti ha visto come funziona questo gioco dura poco è un attimo come una nana una maniata da gnocchi silenzio Nino silenzio di scena tutti quanti pronti con il secondo concorrente via la mascherina via la mascherina via la mascherina ecco ecco qua una bella signora bella senza mascherina è bella senza la mascherina siamo tutti uguali aspetta signora lei come si chiama signora come si chiama Cristina Cristina da come viene Cristina da Montelabate da Montelabate si ma basso un po' perché sennò la telecamera non ci siamo tutti a covioli ecco ecco allora signora Cristina è qui per partecipare a questo fantastico gioco e vi viene da Montelabate faremo subito due domande per rompere il ghiaccio con la signora rompiamo il ghiaccio con la signora Cristina allora praticava qualche guardi pure la praticava qualche sport da bambina si andava a correre andava a correre lei signora Rosa che sport praticava? io la raccolta dei grugni ero sempre covioni è una specie di sì è uno sport perché ti devi gobare arco i grugni tu tiri su metti la sacoccia ti ridobbi ecco ma è è una sport anche quella e poi alla fine mangiavi la cresce perfetto un'altra domanda che non mi piace che altre lingue parla oltre a Montelabatese? l'italiano 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 invece signora Rosa lei parla? del dialetto del dialetto del mondoso del marocco insomma da tutta la valbassa del Giasanta che va bene l'abbiamo conosciuto un po' meglio ci si capisce lo stesso dai più o meno perfetto allora vogliamo iniziare il gioco iniziamo il gioco allora signora Cristina comodiamoci viva 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 possiamo sedere la signora Cristina e allora iniziamo subito avete capito come si gioca c'è una slot machine signora Cristina la signora Cristina dà il via alla slot via via un due tre via 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 e sa cosa dice signora? bella fortunata andiamo qua nel centro venga aspetti aspetti vado a cercare subito vince una fantastica bottiglia di Moretta la vede la Moretta? certo a lei a posto a posto? a posto? grazie signora Cristina si vada a comodare la ora che allora via la mascherina prossimo concorrente prima ancora di entrare via proprio via lì a posto eccola ci siamo ed è con noi la signora Nadia Nadia lei di dov'è Nadia? di Fermignano oh Fermignano c'è la sacra della rana la va più i panni della rana si si tra poco bene quindi qui a pesce volevo dire che qui a pesce azzurro abbiamo persone che vengono un po' da tutto il mondo si da Fermignano fino a Montelabate e tutto è rappresentato mezzo mondo è venuta da Fermignano a sortire la posta qua si ma sapeva che c'era la signora rosa o è venuta per caso? no sono venuta per caso ma sono proprio venuta a conoscere la signora rosa perfetto perfetto e allora noi conosciamo la signora Nadia facciamo subito la domanda qual è il tuo posto preferito nel mondo? casa mia casa signora e lei signora qual è il suo posto preferito nel mondo? cos'è? eh come no? la tazza ah la pazza la capitale della Bolivia no la tazza ha detto la tazza è la tazza del della colazione ah beh ho perdato qui ho capito dopo la colazione dopo la colazione vado in un'altra tazza ho capito prima la tazza della colazione va bene basta questa domanda vuol dire che hai dormito bene che sei viva ancora che insomma una giornata va avanti perfetto possiamo accomodarla signora iniziamo subito venga Nadia basta qua oggi abbiamo già fatto abbastanza domande perché adesso il gioco va avanti perché sennò c'è il telegiornale tra un po' tante cose eccetera eccetera e allora siamo pronti e facciamo partire la sdorp la signora lo dice un due tre via le alici marinate all'acento allora adesso faccio la domanda se le piacciono le alici marinate all'acento si stasera c'erano da mangiare? eh vedi perché la signora ha già mangiato ha già mangiato è perché qua il pesce azzurro ha per presto la gente e allora siamo pronti a giocare con il fantastico gioco che cosa deve fare la signora? il piatto uscito e l'alici marinate adesso la signora deve scegliere una di queste sei pentole vedi che dove c'è scritto drive cattolica ma lì non so cosa c'è scritto Senigallia Rimini e Fano deve scegliere un pento lungo quale scegliamo? drive quello verde quello verde e whey e whey che cos'è whey? è il nuovo punto del pesce azzurro che aprirà e prossimamente quindi ancora ne sappiamo poco ne sappiamo tanto è un punto del pesce azzurro che aprirà nella zona industriale e quante cose sono è diverso da tutti gli altri la signora Nadia crede tantissimo in euri e noi non dobbiamo sapere cosa c'è qua e non sappiamo non lo sappiamo noi speriamo che qui dentro facciamo rivedere cosa c'era più conosciuto prima le alici marinate siano contenute in questa pentola ok? e adesso dobbiamo andare a eliminare pian piano ogni pentolo in qualsiasi momento se la sua ispirazione se si sente che questo piatto non è quello giusto se la pentola non è quella giusta la può cambiare se a un certo punto sente delle vibrazioni sente qualcosa che la smuove hai capito? dentro lei può cambiare questa pentola allora cosa cominciamo ad aprire? Senigallia, Cattolica, Drive, Rimini, Fano cosa vogliamo aprire? Fano apriamo Fano vediamo cosa c'è dentro mettete un po' di musica di suspense vediamo cosa c'è dentro i sardoni i sardoni c'è qualcuno che già parla da dietro tutti gli spettatori che sono qui intorno possono vedere lei no signora che cosa vuol dire? che il gioco va avanti che il gioco va avanti le campane suonano e cos'è la sua città? cattolica cattolica è decisa la signora fa bene un po' di musica se riusciamo grazie e ci sono i cattolini signora che sudata signora eliminiamo Senigallia via è sicura? è sicura sicura? sicurissimo elimina tutte le altre le patate le patate le patate con il merruzzo gratinato con il merruzzo gratinato perfetto non abbiamo vero cazzo siamo ancora in gioco signora non vuoi cambiare per favore la penda no? è convinta apro si apre signora è pesante è pesante e guardiamo cos'è cos'è? è la moretta è ancora in gioco è fantastico questo gioco signora ma ci sono rimini è rimasto rimini è rimini ma chi? e qui dentro non sappiamo se qui dentro o qua dentro ci sono le lici marinate e ora e qui arriva il gioco il bello del gioco potrebbe vincere tantissime cose se qui dentro ci sono le lici marinate vuole fare un cambio per questa è convinta? signora rosa ma io non so perché mi sembrava troppo facile la sceglia al verde tra tutto l'azzurro non lo so io boh non lo so cosa avrei sceglia parli faccia una chiacchierata con la sua il mio colore preferito il verde è speranza certo vogliamo aprirlo? ecco fammi capire qualcosa allora se qua dentro ci sono le alici la signora vince tutto se ci sono qui dentro le alici lei vince se le alici ovviamente non sono qui dentro la signora e saranno sotto quello di Rimini e la signora ha perso oh peccato però vuole fare una chiamata a casa? no vuole chiedere a qualcuno? no a quei 4 milioni di persone che sono qui dentro vuole chiedere cosa deve fare? cosa deve essere? vuole chiedere qualcosa? boh apriamo? speriamo signora in contemporanea dobbiamo aprirlo? io lo farei aprire a lei cosa c'è lì sotto? Nadia apriamo vediamo se c'è se c'è cosa ci deve essere la linea no dopo tutta questa grande battaglia siamo arrivati a che cosa? signora le cozze guarda le cozze le cozze Nadia e qui li ha perso abbiamo provato fino alla fine e cosa li ha perso? ci andiamo nel mezzo venga qua venga qua è stato un gioco emozionante ma dobbiamo provare a vedere se qui sotto veramente ci sono le alici marinate ma scusa fino alla fine le abbiamo aperte tutte e qui bisogna vedere cosa c'è vogliamo verificare se qui ci sono le alici marinate faccia lei signora Nadia faccia da sola scoperchi la pentola e guardi le alici marinate sono qua guardiamola dire chi gliel'avevamo detto e allora signora c'è premio di consolazione che è un bel sughetto del pesce azzurro ma due sughetti vogliamo rovinarci ecco qua signora consegni due bei sughetti del pesce azzurro giratevi di là che andiamo a facciamogli vedere prego grazie di aver partecipato e allora adesso chiamiamo tutti i concorrenti qua prego venite e i due concorrenti che hanno giocato non gli altri venga qua venite qua venite qua perfetto e allora adesso signora prego il microfono c'era lei signora serve il microfono perché c'è il microfono allora adesso loro tre concorrenti diranno dovranno per vincere un ulteriore fantastico premio che sarebbe due biglietti per il prossimo spettacolo del San Costanzo Show dovranno indovinare qual è il peso mio suo di Jeffrey e di Giovanni Giangiacomi che sono i quattro conduttori della trasmissione totale eh sono dei non so se li conoscete sono dei mei cristaccioni Jeffrey alto così e gli alti due uno alto così e un alto così come indicazione può bastare il peso di tutti e quattro uno largo così l'altro largo così più o meno 52 aspetta aspetta uno alla volta cominciamo col signore vada 52 il totale 68 sto facendo il conto 52 68 fa 120 eh quello così e così era 70 190 quell'altro era 80 2,70 2,70 2,71 2,72 di più di più signora di più cosa 100 di più pensiamo di più 300 300 300 300 no cerchiamo Nadia 360 360 niente niente non c'è non hanno indovinato 360 è di più ancora signora è di più e allora signori e signori la puntata è finita salutiamo i nostri tre ospiti grazie salve salve a tutti salve buon andate a prendervi proprio la live c'è il sorbetto i vari dolci la moretta prego li salutiamo se ne vanno sono le 8 signora è stata una fatica tremenda fatica tremenda ed è il momento ed è il momento di chiudere la trasmissione andiamo a mangiare è ora di cena è ora di cena adesso aspettiamo il vassoio non so quanto è durata sta prima puntata ma penso andremo a cena arriverà il vassoio ecco la protezione qui direttamente dal pece azzurro arriva la signora fantastica signorina del pece azzurro ma che roba bella e allora buonasera a tutti anche il fritto si lo mangio guarda buono buono grazie alla prossima puntata ciao anche il salto un sino buono stiamo sentendo qui buono ma l'intero buono 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 pesce azzurro drive medica sì buongiorno vorrei 18 pasti da sport grazie è una mariale buono 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 signora ma chi c'ha pranzo? una squadra di calcio? no siamo in quattro 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 sì ho sbagliato eh sì glielo avanza tu io mangerò prima del gialletto pesce azzurro drive fatti guidare dal gusto fatti guidare dal gusto che